Cristina, vuoi qualcosa da bere? Sì grazie, un bicchiere di vino rosso. Ecco un bel calice di grignolino. Nel Monferrato, quando chiedi qualcosa da bere, è abitudine offrire un bicchiere di grignolino d'asti. E perché? Perché il grignolino è un vino giovane, fresco, delicato, poco impegnativo, adatto a tutte le occasioni. E perché si chiama grignolino? Grignolino perché l'uva è ricca di grignole. Le grignole in dialetto sono i minaccioli, cioè i semini che sono dentro l'acido dell'uva. Cin cin. Cin.